La raccolta differenziata nei comuni di Venafro e Conca Casale partirà dunque l'11 novembre prossimo. Sarà una rivoluzione, hanno annunciato amministratori e tecnici nel corso della recente conferenza stampa di presentazione. Il contratto con l'azienda che gestirà il servizio avrà una durata di otto anni. Tuttavia già nella prima annualità si punta ad un obiettivo ambizioso, il raggiungimento del 75 per cento di differenziata sul totale dei rifiuti raccolti. Anche più impegnativo il traguardo fissato nel 2022, l'applicazione della tariffa puntuale per determinare l'importo della Tari, la tassa comunale sui rifiuti. Basata sul concetto secondo cui chi inquina paga, tale tariffa si compone di due parti, quella fissa volta a coprire i costi di esercizio del servizio e quella variabile dipendente invece dai rifiuti prodotti dall'utente. L'ammontare di quest'ultima, superando il criterio della stima presunta, è collegato all'effettiva produzione di rifiuti di ogni utenza. Dall'assessore all'ambiente al comune di Venafro, Dario Ottaviano, una opportuna precisazione. Rispetto alle attuali tariffe, il sistema di raccolta differenziata non prevede risparmi economici. L'obiettivo è diverso e attiene all'efficientamento della raccolta in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei rifiuti. Produrre più rifiuti e differenziare meno, sottolinea Ottaviano, farà lievitare la bolletta rispetto a quella degli utenti più virtuosi. Con la differenziata non andremo a realizzare delle economie, dei risparmi, perché l'aspetto principale è quello che l'azienda che farà la differenziazione dovrà impiegare più risorse umane, maggiore numero di personale. Dovendo andare ogni giorno a porta a porta a tutti i cittadini della città naturalmente c'è questo aspetto che grava dal punto di vista economico sulla cosa. Però se tutto viene fatto in maniera giusta non ci saranno particolari aumenti per nessuno. Naturalmente, come ripeto, come già ho detto prima, sarà attenzionato, inizialmente sarà richiamato chi non differenzierà oppure chi sbaglierà, poi successivamente si arriverà a misure un po' più dure nei confronti di questi cittadini che non vorranno adeguarsi, ma soprattutto una cosa, l'aspetto più importante che volevo dire è che noi come Comune naturalmente faremo in modo che tutti gli abbandoni di rifiuti vengano sanzionati in maniera esemplare, quindi non si tollereranno assolutamente abbandoni di rifiuti.